ciao, ciao piccolo, il bacino, sì, il bacino come sei bellino, come sei carino due cuccioli, sì, sono cuccioli, però sono abbastanza grandi di età guarda qua mi dai bacini e lui come si chiama? e lui è nuovo, quindi ancora non ha un nome non abbiamo ancora, come anche gli altri due cucciolini che nome gli diamo a questo piccolino? che nome gli diamo? con questo bel ittino attenzione che qua c'è un beso, un bisognino e lui ci ha lasciato un regalino e lui ci ha lasciato eh, hanno paura ma mamma, questo senza pelo non è niente no come la mia cagnolina, la mia cagnolina piena di pelo senza pelo diventa così non è niente e poi io mi sono spostata e lui mi ha seguito si è seduta di nuovo però è giovane è giovane, sì, è piccolino si vede eccolo dai, si sta riprendendo dai alè vabbè poi va morire perché gira su se stesso è troppo simpare quello si sta vincendo qui sì, quello si vedi scodinzola un po' vuole ma a paura è un po' è una cosa da provare ciccio ciccio si è provato da il video un secondo ciccio ciccio è un po' è un po' è un po' è un po' Grazie.